Perfoggio a Zon con il Rettore Ricci, allora oggi quali sono gli spunti più interessanti che vogliamo trarre da questo dibattito? Allora, finalmente utilizzare i fondi per l'Italia meridionale affinché siano effettivamente al servizio dello sviluppo dei vari territori con un raccordo molto forte fra i governi, il governo centrale, i governi locali, le università e le imprese. Finora questo collegamento non si è verificato, dobbiamo lavorare tutti perché questo si possa concretamente verificare. Quanto può essere importante, soprattutto un argomento come quello del riscatto del mezzogiorno e la presenza del sottosegretario del Rio? Beh, è fondamentale perché il sottosegretario del Rio finora ha dimostrato una concretezza estrema nei suoi atti anche di azione governativa, quindi diventa fondamentale e quindi ricoprire anche quel gap che si è registrato in precedenza rispetto al governo. E in questo le università devono essere il soggetto privilegiato perché sono in una società della conoscenza, sono il luogo di formazione appunto della cultura e della ricerca.